A Napoli si parla tanto in questo periodo di trequartisti, noi li abbiamo raggiunto a Foggio, un trequartista, ed è Vincenzo Sarno. Ciao Vincenzo. Salve, buongiorno. Allora Vincenzo, a Foggio hai trovato, possiamo definirlo, l'ambiente giusto, la scorsa stagione è stata positiva, ora cosa ti aspetti da quella che sta per cominciare, o comunque che già è cominciata? Sicuramente migliorare le prestazioni, i risultati dell'anno scorso. La scorsa comunque, come dicevi, è stata una stagione abbastanza positiva, una stagione che comunque non vi ha portato a quei magari traguardi che vi aspettavate, però 66 punti in classifica sono comunque tanti. Sì, non sono pochi, però come si dice siamo arrivati corti, per cui l'obiettivo è stato sfumato. Quest'anno abbiamo fatto un buon lavoro, stiamo continuando a lavorare sodo sul campo, proprio per migliorare i risultati dell'anno scorso. Possiamo dirlo che con il mister De Zerbi ti stai esprimendo al meglio? Sì, il mister mi lascia a libertà in tutto e per tutto, per cui diciamo di sì. Anche perché qui quest'anno ci si aspetta tanto, lo stesso mister ci diceva che l'obiettivo è importante, io gli ho chiesto se il playoff è quello minimo, tu ti senti di promettere questo ai tifosi del Foggia? No, io mi sento di non promettere niente, però l'obiettivo di noi tutti, e come ti ho detto stiamo lavorando per quello, è quello di fare un anno importante, un anno, non diciamo niente, non importante per tutti. Napoletano Doc, quanto ti piacerebbe vestire quella maglia azzurra? Eh beh, questa è una domanda un po' particolare diciamo qua, adesso sono felicissimo di indossare questa del Foggia, la sento mia, però da napoletano è sempre un sogno la maglia azzurra. Sei stato il bambino prodigio più chiacchierato, 99 Torino, poi il passaggio alla Roma, poi diverse occasioni in altre squadre, anche divise tra Lega Pro e Serie B, però Vincenzo qual è il momento di svolta della tua carriera, visto che ormai hai raggiunto la maturità e ormai 27 anni? Vabbè, del passato non ne voglio parlare, Torino, se sono fatte già troppe chiacchiere non mi vado a parlare. Sicuramente la svolta l'ho avuta un po' i sei mesi di Lanciano, dove ho vinto il campionato da protagonista, però diciamo la maturità giusta quella è, l'ho presa quest'anno, l'anno scorso qui a Foggia, grazie ai miei compagni, grazie al mister, grazie alla piazza di Foggia. Abbiamo detto di mister Roberto De Zerbi, però voglio chiederti anche di Carmine Gautieri, altro tuo ex allenatore, diciamo che alla fine sono loro quelli che ti hanno aiutato di più. Sì, anche con Gautieri ho avuto un grande rapporto dentro e fuori dal campo, sì, però come sennò il mister De Zerbi è un'altra cosa. Dai guardiamola dal di fuori, da Foggia, guardiamola da qui, questo Napoli di Sarri quanto ti intriga? No, mi piace, perché da tifoso proprio napoletano ti direi no, perché vorrei vincere qualcosina, però stando un po' nel calcio sono molto contento per la chance data a Sarri, data a molti giovani italiani, molti giovani del calcio, per cui mi intriga e lo seguo sempre con passione. Però ti voglio stuzzicare un po', il mister Sardi gioca col trequartista, in questo momento c'è Lorenzo Insigne, come lo vedi magari un futuro, il tridente, Higuain, Gabbiatini e Sarno? No, no, io ormai non faccio nemmeno più il trequartista, il mister mi fa giocare largo a destra, per cui... Magari si può cambiare modulo con Sardi? No, pensiamo solo al Foggia e al tridente del Foggia. La doppia cifra? È un obiettivo. Da raggiungere per forza? Sì, se no chi lo senta, dai.